Mobile World Congress 2017 è cominciato ieri nella città di Barcellona con tantissime novità nel mondo del mobile, non solo quelle dei dispositivi che useremo nei prossimi mesi, ma anche quelle delle tecnologie che useremo invece nei prossimi anni. E per conoscere in primo luogo le novità per i dispositivi dobbiamo fare un salto indietro di due giorni e tornare allo scorso weekend quando domenica c'è stata una raffica di presentazioni da parte di tutti i principali produttori. Si comincia da Alcatel che ieri mattina ha presentato un prodotto molto curioso addirittura con una cover LED riportata sul retro con dei temi cromatici molto particolari che si attivano quando si stanno facendo conversazioni. Nella giornata di ieri poi è arrivata anche la novità di LG che ha lanciato LG G6, il nuovo top di gamma con tantissima tecnologia al suo interno. Parto con il ricordare una doppia fotocamera, addirittura con il grandangolo quest'anno tra l'altro con la scelta di adottare un sensore da 13 megapixel, quindi molto più sofisticato rispetto a quello dello scorso anno. Però parlando di LG G6, la novità più interessante è stata quella del display con la proporzione 18 noni, quindi un display più lungo e stretto che rende il telefono più maneggevole e tra l'altro adotta esattamente la stessa proporzione dello schermo cinematografico, quindi per la riproduzione di contenuti multimediali ancora più spettacolare. Grazie anche alla nuova tecnologia HDR che migliora drasticamente la riproduzione del video e soprattutto la gamma dei colori che viene riprodotta. Non solo LG G6 ieri sera, potremmo parlare di tantissime tecnologie tra l'altro dentro il nuovo prodotto coreano, ma nel corso del pomeriggio della domenica è stato presentato anche Huawei P10. Questo è un prodotto che stiamo già utilizzando tra l'altro in queste ore, che introduce tantissime novità. Intanto viene confermato l'uso della doppia fotocamera, un sensore per il bianco e nero e uno invece per le immagini a colori. Quello per le immagini bianco e nero quest'anno tra l'altro è da 20 megapixel, quindi più sofisticato rispetto a quello di un anno fa. E poi scelte cromatiche molto particolari con una linea di prodotti realizzata in collaborazione con l'istituto Pantone che porterà il colore verde ad esempio e questo particolare azzurro sul mercato anche nel nostro paese. Bisogna sottolineare che Huawei ha portato due prodotti, P10 e P10 Plus, alzando il prezzo rispetto allo scorso anno. Il modello base costerà 699 euro, mentre il modello più grande arriverà addirittura a 829. Nei prossimi giorni vi racconterò tutte le prossime novità del Mobile World Congress 2017. Da Barcellona è tutto.